Buon anno a tutti ragazzi e ragazze! Finalmente e benvenuti in questo nuovo video! Io sono Marta, la guardiana slash tecnica notturna, diurna, mattutina e pomeridiana! Oggi 2017 è iniziato! Vai così! Volevo ringraziare per ora! Per tutti i crew e ci sono tanti! I fast bear screw, i toy screw, phantom screw, night bear screw, phantom screw e tutti gli altri! Ci sono anche la famiglia Afton! Ci sono anche i guardiani! Eh sì? Intanto me lo ricordavo! È vero? Sì sì sì! Ora mi raccomando date un messaggio! Sicuramente! Beh ce ne sono tanti messaggi per voi! Vabbè, ascoltatelo! Buon anno a tutti signora Ceccanti! Il mio nome è William Afton e questa è la mia moglie, Clara! Buon anno a tutti ragazzi e ragazze! Oh! Volevo dire... Buon anno! Volevo dire... sì! Buon anno a tutti! Volevo dire signora Ceccanti! Sì! E questi sono i miei figli! I miei figli volevo dire! Michael, Sammy e Charlotte! Vabbè, chiamo semplicemente Charlie! Buon anno a tutti! Dai, fratellone! Sono un capodanno! Buon anno a tutti! Buon anno a tutti! Vabbè, signora Ceccanti! Però, eh... sicuramente è l'anno del 2017 che l'abbiamo inizia! Vero, fratellino? Proprio così, fratellone! Eh... signora Ceccanti! Aiutaci a proteggerli! Eh, mi raccomando! Ci conto! Ma dai, ma dai! Mi stavo scherzando! Oh! Buon anno! Scusate, mi stavo mangiando un delizioso gelato! Speriamo che non devo scopare! Di nuovo! Mi sento così tanta fame! E volevo fare un bellissimo e... gli brindisi! Eh... Eh... Va bene, ragazzi! Eh... sicuramente, mi raccomando! Prendili Corri dei Figli! E vi auguriamo di un buon anno! Grazie e buon anno la famiglia Afton! Vabbè! Sicuramente c'è un altro messaggio! Ehm... Ehm... Un altro messaggio! I Fontanis! Ehm... Buon anno a tutti! Un bellissimo passo di danza! L'anno! Ehm... 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 Cominciate a danzare! Ehm... 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 Venite a trovarmi! E mi raccomando! Fate buoni! Mi raccomando! Sicuramente mi raccomando! Eh... Vuoi di dire? Sì! Mi raccomando! Fate un bellissimo non pazzo di danza! E aiutate anche i miei bambini! Che hanno usato l'aiuto! Buon anno a tutti! Abracadabra! Magica! Pula! Pididi! Paudidi! Puu! Ehm... Ehm... Sono io! Pidi Beb! Ehm... Sono contenta! Oh! Stavo facendo una vera magia! Ehm... Vero è ElectroBeb? Sì! Sì! Pidi Beb! Oh! Oh! Voi di... Salve ragazzi! Sono ElectroBeb! E sono un mago più luminoso! Che non avevate mai visto! Vi raccomando! Venite a trovarmi! Trovarmi! Vuoi dire... Sì! Volevo dire... Trovarci! Ok! Oh! Volevo dire... Trovarmi! Ok! E vi raccomando! Fate una bellissima... Un tocco di magia! E' stata una buona idea! E' stata una buona idea! ElectroBeb! Quindi! Buon anno a tutti! Oh! E buon anno anche voi! Vuoi! Vuoi dire... Sì! Anche voi! Oh! Va bene ragazzi e ragazze! Oh! Buon anno! Sono io! Circus Baby! Va bene! Mi chiamo semplicemente Baby! Ehi! Ehi! Adoro divertirsi con clown! Haha! E lui è mio padre! Enhard! Ehi la figlia la mia! Enhard è qui! E ora c'è un anno che verrà! E' proprio nel 2017! Vero? Vero figlia mia? Sì! 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 Papà! E mi raccomando! Venite a trovarmi! E' ora diventirsi come un clown! Hahaha! Buon anno! E buon anno anche voi! Mi raccomando! Venite a trovarmi! A me piace un passo di danza, come sembravo che sono una vera acrobata, proprio cosa non sono brava e mi raccomando, devo insegnarmi a mia mamma, si chiama Balora, vero? Ok, mi raccomando, venite a trovarmi e vi aiutate a danzare, come vi dice le pirouette, perdonele voi, e volerle via. Mi raccomando, venite a trovarmi. Mi stavo interrompendo? No, non si deve interrompere. Comunque, buon anno, è già iniziato nel 2017. Venite a vedere un delizioso speciale show. Eccoci qua, sono io, Fodafoxy, e venite a trovarmi a raccontare una bellissima storia. Oh, è anche da vedere. Venite. E mi raccomando, raccontate una bellissima storia, come Biancanevi, Settinani, Cenerento, Rabella e la Bestia, Oceano, me ne ricordavo, avevo già uscito. Frozen e il Regno di Ghiaccio, eccetera eccetera. Buon anno a tutti! Ehi, buon buon! Buon ezz! Di ciao alla guardiana slash tecnica! Oh, ok, 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 va bene, va bene. Ciao! Salve! E c'era un bellissimo non buon anno, nel 2017, e ora abbiamo un inizio! Vero, amore mio! Sì, l'anno che verrà! È arrivato! Nel 2017! Oh, non è già dato un addio nel 2016! Oh, tranquillo, amore mio! Quindi, buon anno a tutti! Beh, non l'aveva detto! Buon, 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 buonet! Quindi, guardiana! Vuol dire, tecnica! Sesh, guardiana! Buon anno a tutti! Già, già, buon anno a tutti! E ora, è già venuto nel 2017! Venite a trovarmi! Ma anche a questo solo schermo! Perché è segreto il mistero! Buon anno! Buon anno a tutti! Vuol dire, buon anno, Fun Times! Ok, sono un po' così stanca! Comun, vabbè! Ok, lo concludiamo! Se il video mi è piaciuto, come al solito, un mi piace! Iscrivetevi sul canale! Scrivetevi un commento sotto la descrizione! E noi ci vediamo al prossimo video! In guardia! Buon anno, ragazzi e ragazze! Ciao! Ciao!